Battendo sul ring di Fiumicino prima del limite il toscano Valentino Porcu, il giovane Flavio Ventricini ha conquistato il titolo italiano professionisti di Muay Thai, categoria 61-200 kg. Contaci com'è andato questo match. Questo match è andato benissimo, è andato come ci aspettavamo, come ci auguravamo perché avevamo lavorato tanto e siamo riusciti a mettere in pratica quello per cui avevamo lavorato. Quindi fin dalla prima ripresa, riuscendo a mettere in atto le tecniche che avevamo provato, siamo riusciti a ferire con dei tagli al volto l'avversario e abbiamo continuato nella seconda e nella terza ripresa con un colpo di comito abbiamo terminato l'opera e siamo riusciti a fermare il match che ha finito quindi per RSCH, quindi per un taglio e decisione del medico. Da quanto tempo tu pratichi questo sport? Perché hai cominciato e cosa hai vinto fino a questo titolo? Allora, ho cominciato questo sport circa 4-5 anni fa e in realtà per l'esigenza di sapermi difendere e mi incuriosiva lo sport anche per prendere più sicurezza in me stesso. Venendo dal calcio, anche per l'esigenza che sentivo per carattere personale di passare da uno sport di squadra a uno sport individuale in cui la prestazione e il risultato dipendesse più da me in prima persona. Nel 2018 abbiamo cominciato i match di contatto pieno, quindi siamo passati dal light al contatto pieno e abbiamo vinto un titolo italiano nel dilettantismo, sempre sulle 5 riprese ma finito per KO alla terza ripresa. Che cosa fai tu nella vita e quindi come vedi questo sport inserito nel tuo percorso personale umano? Io nella vita studio scienze motorie, sono al secondo anno e quindi il prossimo anno dovrei laurearmi e vorrei continuare con degli studi di nutrizione umana, per cui nel mio futuro vorrei insomma riuscire a legare le due cose, la mia passione per lo sport, per la Muay Thai e le mie conoscenze nutrizionali relative alle scienze motorie. Ed il titolo di Flavio Ventricini sarà difeso entro quest'anno compatibilmente con le esigenze organizzative determinate dall'emergenza Covid. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabir.